Come ogni anno ci troviamo qui Chi vuole venire? Quest'anno c'è un po' penalizzato la pioggia Vedremo un po' quanti saremo E' uscito il sole adesso Sempre belli carichi Più o meno quanti sarete? Ma a vedere così a occhio è un 15-20 persone Però può essere sempre che arrivi qualcuno All'ultimo Finora nessuno si è mai tirato indietro all'ultimo? No, però nessuno Tutti quelli che si sono promessi l'ha fatto E che temperatura c'è secondo voi oggi? Ma sarà sui 6-7 gradi L'acqua è 6-7 E adesso secondo voi nell'aria quanti gradi abbiamo? Una decina di gradi Adesso che è uscito il sole Il rischio più grave è quello di trovarsi Si chiama idrofuzione E' una situazione in cui Buttandosi in acqua fredda I pori della pelle si chiudono molto rapidamente E tutto il sangue viene convogliato al cuore E questo è proprio un arresto Oltre poi quelle che possono essere I vari ovviamente patologie di congestione E cose varie Che però vabbè diciamo Sono più facili da gestire Comunque difficilmente uno perde Con l'attenzione di talmente Ma casa è un attendenza di talmente C'è un att nuito rimanda E' così indi Wen maybe no? Dai chiesto Giovana Giovana Dai cazzo! Dai cazzo! ahahah 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 quanto è fredda ahahah adesso vieni adesso vieni con BOR adesso vediamo buonissimi dai andiamo andiamo dai Libo buonissimo ahahah 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 allora com'è così fredda? bellissimo no dai dopo un paio di bracciate si sta anche bene si buonissimo ragazzi com'è l'acqua genio si muore guarda non provarci perchè prima e ultima volta? no dai ma che cazzo è l'ultima? ma magari mi ritrovate qua però non lo so ahahahahah 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 ahahah ahahah grazie aci